benvenuti all'università degli studi di perugia uno degli atenei più antichi del mondo un ateneo che custodisce la storia della conoscenza della cultura non solo del nostro paese oggi vogliamo darvi il benvenuto in un tour in un tour che vi possa accompagnare a conoscere le nostre tradizioni i nostri grandi scienziati e soprattutto diciamo quel tesoro preziosissimo che è un po la custodia delle nostre radici e vi accompagneremo in questo percorso secolare fino ad arrivare ad oggi attraverso i nostri laboratori i nostri dipartimenti in cui la grande tradizione l'innovazione secolare danno una prospettiva al futuro benvenuti all'università degli studi di perugia e benvenuti nei luoghi più sacri e nei tempi della cultura e della civiltà